Ciao, mi chiamo Maria Cristina e sono qui per parlarvi di un libro che non mi ha appassionato più degli altri, mi ha incuriosito tantissimo. Il cibo del risveglio e l'autrice è Selene Calloni Williams. Dovete sapere che io ho una grandissima passione per la cucina e spessissimo ospito amici, parenti, è una forma d'arte, mi piace, anzi è una forma d'amore e devo dire che ero anche abbastanza presultosa in cucina, ma questo libro mi ha incuriosito dalla copertina, ma il titolo è con un po' di, non dubbio, però di freddezza l'ho avvicinato e devo dire che mi ha dato degli spunti molto molto interessanti, anche proprio perché ogni cibo ha una proprietà diversa e davvero la nostra anima ha delle sfacciuttature molto diverse e con l'alimentazione possiamo migliorare noi stessi, ma nel profondo. E quindi ho imparato un modo diverso di cucinare, più spirituale, più rotondo e questo mi ha dato, devo dire, mi ripeto, ma è la verità, degli spunti molto diversi nella creatività, ma nella spiritualità, che è curioso abbinare alla cucina, ma invece si può, anzi io non vi voglio svelare altro, ma vi incoraggio a leggerlo, specialmente se siete delle fuoche o no, perché vi darà comunque degli spunti molto molto interessanti.